Da 30 anni al fianco delle donne tradite, maltrattate, abusate da chi contemporaneamente afferma di amarle. L'associazione Arettina Pronto Donna festeggia i suoi primi 30 anni di vita in questo territorio, Arezzo di certo non escluso dai casi di violenza contro le donne, spesso tra le mura domestiche. Quest'anno 303 donne si sono rivolte al centro antiviolenza a fronte di 226 dell'anno scorso e questo è un dato che ci fa riflettere sulla possibilità forse in più che si dà alla donna. C'è una rete che si è costruita attorno alla donna e la donna forse ha più il coraggio di parlarne perché si sente in un contesto più protetto. Per celebrare questo importante traguardo l'associazione ha pensato ad una serie di eventi che si svolgeranno fino al prossimo marzo. Il programma patrocinato dal Comune di Arezzo prevede incontri letterari, un concerto ed il 20 marzo dalle 10 alle 13 al dopolavoro ferroviario appuntamento sul tema violenza di genere, come riconoscerla e strumenti di tutela. L'input è sempre lo stesso, se non parli non lo saprà nessuno. Sì, questa è una frase della campagna che abbiamo pensato assieme allo studio VML Design di Arezzo che ha offerto il suo progetto comunicativo gratuitamente. è proprio una frase chiave perché racconta di quanto sia difficile anche riuscire a raccontare le violenze che per la grande maggior parte della statistica che abbiamo, delle statistiche che abbiamo, avviene in famiglia. Il numero nazionale per poter chiedere aiuto è il 1522 ed è attivo, 24 ore su 24.